Fortu ti propongo una challenge, vediamo se riesci a vincere una partita senza saltare Beh vorrei dire, se salti il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi vi spiego velocemente la challenge di oggi, che non è una challenge Vabbè comunque ragazzi se saltiamo il video finisce Vi faccio vedere che il jump c'è, il salto c'è ragazzi Infatti se premo X c'è jump, quindi salto Non ho imbrogliato, non sto imbrogliando Se premo X io salto e la challenge viene praticamente distrutta Una cosa sarà molto divertente ragazzi, dato che o finire in due modi O che perdo, o che salto insomma, quello che finirà così Vorrei fare una serie di video in realtà di questo tipo con varie challenge Se ne avete anche voi qualcuna mi raccomando scrivetela qui in basso Tipo che ne so, se fai questa cosa il video finisce Sono pronto ad accettare qualunque idea folle Magari poi la mostrerò anche nei prossimi video Mostrerò nel video il vostro commento Magari se la challenge è carina e la porto Allora, allora ragazzi qui fucile a pompa Attenzione ci deve essere un nemico sotto, sopra Ok, non ho saltato, giusto? Mi pare di no Mi sembra di no ragazzi, ho premuto X però Dato che stavo abbassato Quello che ha fatto è stato semplicemente alzarmi il personaggio Vediamo Sì, ok, se io premo X Però, ok, 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 l'abbiamo capito Se premo X però sto abbassato ragazzi non me lo da come Come salto, va benissimo Sta cosa è utile a sapersi Hanno inserito Oh mio Dio, aspettate Ah, questo si è preso la chest Figa Eh? Cosa? Ah, ti prego This shit is insane, man Ok ragazzi, questa cosa sta funzionando Io non sto saltando Il mio cuore però è praticamente finito Ho fatto pure 4 kill Ma stiamo a scherzare, raga? Dai, 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 dai Attenzione, gente, gente, gente Ok, credo sia un bot Credo sia un... No, forse non è un bot, non lo so Ah, ragazzi C'è mu... Vabbè Ok Ah, ah, ah Ah, ah Ah Dai Eh, vabbè, sì Ah, ragazzi, non ho materiali Spiegate questa cosa come si fa senza materiali No, vabbè Sì, vabbè Quello non era un salto, ragazzi Sono semplicemente da davanti e sono caduto, eh Tanto, cioè, è figo se perdo Lo faccio vedere Credo che facciamo più che altro un effetto carino Comunque, ragazzi, non so come sto facendo Cioè, abbiamo pure 5 kill senza saltare Ma è ridicolo Sono più forte quando non salto che quando salto Diciamo che su 10 granate sono entrate tipo 3 Ok Ah Stato questa cosa Ok, ok Dai, dai, dai Curiamoci Finalmente hanno anche fixato lo sparabende Che prima aveva un bug, sì Eppure l'altro Vabbè, ragazzi Per esempio, qua già stavo facendo qualche follia Ok No, ragazzi, veramente comunque non saltare è qualcosa di dannoso Fortunatamente se sto sempre abbassato Io non ho il rischio che salto direttamente Perché devo prima Alzarmi E poi premere X Quindi se faccio la cosa spontanea Insomma, non ho il problema in maniera grave Allora, io non so se qualche pezzo ve lo da io Probabilmente sì Intanto non credo che ci saranno problemi Cioè Voglio dire Se salto mentre sto camminando a caso Sono veramente stupido Ok Ok, c'è uno là, ragazzi Dai, 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 dai Devo fidare Ok Eh, ma io qua, per esempio Non potendo saltare Eh, cioè Io non so manco come Veramente C'è questo tipo Si è fatto prendere dai ground Quando non potevo saltare Dai Eh, però Fra E modifica E dita un po' Ok, ok Lo fa, lo fa, lo fa, lo fa Però lo fa In una maniera un po' particolare Materiali, ragazzi Vedete Caduto in acqua, serio? Vabbè Ragazzi, questa cosa sta veramente Andando in ridicolo Trappola? No, l'avrebbe presa prima Eh, non c'ho manco Ma di reale Eh, dai, però Vabbè, questo Vabbè, ragazzi Questo si fa entrare Dai Mi fai entrare, infatti Ragazzi Ma io non sto saltando Io sto camminando Come un mongospastico E sta funzionando No, vabbè, ragazzi Io non ci posso credere Cioè, ma veramente Io pensavo che il video Finisse tipo nel giro Di tre minuti Invece sta andando, ragazzi Ok Ok, ora devo stare attento A non saltare Altene ti faccio la stupidaggine Vale anche questo Perché se premo X Salto Il ciccio veramente ci è riuscito Vabbè Non sta niente Buon per lui Allora, esempio qua che è Roba che non ci interessa Ok Andiamo all'interno della barca, ragazzi E andiamoci Vai Su Parti Andiamo Io per esempio Dovei salire Ma Ora sarà tragica salire Perché non potendo saltare Devo fare sta cosa Sta cosa proprio qui Da noob Che fastidio Epico, regà Epico Epico Mamma mia Fortuna che Spacca tutto, regà Mamma mia Andiamo, 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 andiamo Là in lontananza ci sta un approvigionamento Che sinceramente vorrei prendermi Non è che mi spiace Insomma Cioè capite quanto è brutto Non poter saltare Mentre cammini Per le lande desolate Cioè per le lande desolate Proprio da Da cecchinata Nel Non lo so Nella scarpa Tipo Allora lì non vedo nessuno Ragazzi Ma di sta cosa non mi fido Né mo Né mai Cioè Ci sono tre nemici nascosti Che stanno guardando L'approvigionamento Ma come minimo No Non lo so che ci siete Non fome C'è il cespuglio C'è il cespuglio Non mi ha visto Non credo mi abbia visto Non ha capito dov'era Guarda 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 come è incazzato Guarda come è incazzato Non capisce Cavolo Ok Ragazzi qua Oh Sono sceso Ok Ovviamente ragazzi Nota quando io salto Proprio Oppure scendo Da una struttura In quel caso stavo scendendo Ok Eh Magari faccio così Aspettate Idea Non devo saltare Non devo saltare Quando ho il lanciarazzi Ho l'orrenda abitudine Di fare Dei belli salti Per dare fastidio Dai Dai Ragazzi ma io ho capito Tutti i nubi che ho incontrato In realtà erano delle persone Che stavano facendo la sfida No jump Che geni Bella Ok Ok Cioè io Vabbè Io non capisco perché Veramente questa cosa Stia funzionando Ragazzi Io veramente non comprendo Ok Ok Calmi calmi ragazzi Vabbè Questo è il tipo Che ora mi massacra Sono un piacere Guys Sparalo Sparalo Ah È più di uno È più di uno Ah ragazzi Io qua devo uscire Ok Dobbiamo andare in quella direzione Ci devo fare così dai Vado così Cerco di indermi lontano Da questa zona Così Non dovrei avere Troppi problemi Solo ragazzi Che io devo Cioè io non posso Andarmene senza saltare Ok Ma no! Ma non è possibile che io senza saltare Uai, mamma mia, ragazzi No, vabbè No, vabbè, raga, è ridicolo È veramente ridicolo, cioè È veramente inaccettabile Ma mi cavia una pozza grande, sto tipo Non ci ho fatto caso Panico Vabbè, dai, ho capito, ragazzi Via, via No, io mi devo passare in acqua, non posso fare Ah, ma la roba stava qui Interessante Dai, 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 dai Oh, ma la sto un tipo La sto un tipo boxato, credo di sì Noi ce ne stanno due Eh, sì Ok Tizio Vale, male Insomma, così cadi in acqua, raga Che fastidio Eh, un tizio sta in lontananza, ok Io cadi in acqua, qua, sì Io resto qua, ragazzi No, ma Ma io veramente sono arrivato in endgame Facendo questa cosa Cioè, io mi aspettavo di fare una gag carina Di un minuto in cui saltavo e perdevo Ma qui veramente Stiamo raggiungendo un livello ridicolo Cioè, va, non stiamo giugando Non stiamo giugando No No Ma che fastidio Eh, ma se focussano in due È difficile qua Lasciate stare le mie strutture Ma che fastidio Io, ragazzi Io sto abbassato Perché so Eh, lo sapevo Volevo stare abbassato, ragazzi Perché io so che salto Se non sto abbassato Io salto Mi conosco Cioè, so che sono stupido Eh Cosa Che Ora o mai più, cioè Perché tipo Perché tipo muoio Se non lo faccio Ora È partita Ho vinto Ho fatto una partita Senza fare un salto Ma stiamo scherzando Ho visto una partita Ho vinto una partita Senza fare un salto Ragazzi Ma cosa Ma cosa ho fatto Codice creatore Fortunello In shop Ma chi vince Le partite Senza saltare Ragazzi Chi vince Le partite Senza saltare E Ehi...